ciao a tutti questo è il podcast di pagella politica io sono tommaso canetta e io sono camilla bagnozzi in questa puntata ci occupiamo di una teoria del complotto che sarebbe esilarante se solo non ci fossero sempre più persone che a quanto pare se la bevono ci credono e purtroppo agiscono anche di conseguenza stiamo parlando di q anon scritto lettera q seguita da anon come anonimo una teoria che viene dagli stati uniti ma che sta iniziando a diffondersi anche in europa e anche in italia in cui si mescolano satanismo pedofilia il papa hollywood trump e insomma chi più ne ha più ne metta ne parliamo con camilla bagnozzi responsabile del nostro progetto di debunking facta che se di solito ci tiene compagnia durante ogni episodio del nostro podcast con la sua rubrica sulle notizie false oggi invece è la mia ospite diciamo per tutta la puntata ciao camilla ciao tommaso allora partiamo dall'inizio spiegaci brevemente che cos'è di preciso q anon e quali sono le sue principali caratteristiche q anon se lo vogliamo se vogliamo ricalcare la pronuncia inglese ma spesso viene anche italianizzato in q anon è una delle più complesse possiamo dirlo teorie del complotto nella storia di internet a partire dal 2017 si è diffusa tra gli esponenti dell'estrema destra americana e nel 2020 ha poi fatto quello che possiamo definire il suo debutto ufficiale in molte altre aree del mondo approdando tra l'altro anche in italia timidamente nei mesi primaverili per poi diffondersi un po di più in estate quando la disinformazione a tema covid 19 è passata in secondo piano per lasciare nuovamente spazio ad altri temi quando si parla di q anon è importante sicuramente tenere a mente che si parla in qualche modo di due fazioni opposte da una parte ci sarebbero coloro che sono impegnati ad architettare un piano pensato per assassinare il presidente degli stati uniti donald trump organizzato da celebrità di hollywood ed esponenti democratici e dediti a pedofili e riti satanici come avevi in qualche modo anticipato anche tu insomma un vero e proprio deep state è così che viene identificato in grado di controllare l'andamento le scelte e la politica dell'intera nazione dall'altro lato invece ci sarebbe quella che può essere definita la resistenza nonché fulcro di quei non fazione che comprende lo stesso donald trump e q un misterioso account che sostenendo di essere un funzionario governativo semina da anni su internet una serie di indizi che riguardano in qualche modo il giorno in cui l'iniziativa verrà sventata e i carnefici addirittura assicurati alla giustizia l'eliminazione dei traditori nella teoria di quei non è definito il grande risveglio the great awakening e segnerà secondo i credenti della teoria l'ingresso trionfale in quella che possiamo definire una nuova età dell'oro capeggiata appunto da donald trump come insomma tommaso ascoltatori questa breve infarinatura generale del tema lascia intendere anche la comunicazione di quei non è basata su una serie di rimandi all'attualità molti messaggi in codice e degli attacchi più o meno personali rivolti a quelle che sono dei volti noti a partire dal 2020 si è poi parlato come anticipavo prima di un vero e proprio fenomeno di propaganda sicuramente anche in vista delle elezioni presidenziali che hanno nuovamente visto protagonista nel tentativo di ottenere un secondo mandato lo stesso donald trump prima di addentrarci in quelle che sono delle riflessioni sulla struttura di q e non sul suo diffondersi e anche sull'impatto che ha in italia partiamo però dalle origini hai appunto nominato q questo misterioso account attivo sui social che semina indizi cosa ci puoi raccontare in proposito come abbiamo ricostruito in un approfondimento dedicato a quei non pubblicato su facta la storia di q inizia su 4chan una bacheca per immagini caratterizzata da una parte dall'assoluto anonimato degli utenti che la utilizzano e dove a livello di moderazione dei commenti o delle interazioni tra gli utenti si è decisamente permissivi allora che cosa è successo il 28 ottobre 2017 appunto su 4chan un utente che si è firmato q quindi la lettera dell'alfabeto ha per la prima volta pubblicato una serie di contenuti criptici e relativi all'amministrazione trump in breve tempo que non è poi sbarcata su reddit dove si è possiamo dire definitivamente diffusa a fare poi da amplificatore della teoria ci hanno pensato influencer e media vicini all'alt right cioè l'estrema destra alternativa americana uno su tutti info wars allora analizzando un po quello che di cui abbiamo parlato fino adesso possiamo sicuramente riflettere sulla scelta del nome cioè la lettera q non è una scelta casuale il riferimento è al q clearance cioè un pass riservato agli esponenti di alto livello del dipartimento dell'energia statunitense e necessario per accedere a tutta una serie di informazioni particolarmente sensibili e riservate è chiaro quindi come in qualche modo viene immediatamente a crearsi il legame che un po anticipavo anche prima q sarebbe una persona in grado di accedere a dei documenti governativi riservati e che visto il suo ruolo vede e sa cose che sono invece sconosciute ai comuni cittadini oltre alla lettera q ci sono poi anche altri termini che tendono ad identificare quella che poi si è creata come una comunità intorno a quei non prima tra tutti i breadcrumbs cioè briciole in italiano ed è il termine con cui si identificano gli indizi che vengono in qualche modo seminati da q d'altra parte poi il vasto pubblico che segue il profilo e gli sviluppi della teoria del complotto prende invece il nome di baker c4night tra l'altro a seguire le briciole di pane ci insegna la favola di pollicino non si finisce bene meglio sono i sassolini che per quanto piccoli sono di dura roccia dura come i fatti che a noi piace raccontarvi e che i seguaci di q e non peraltro chiunque egli sia chissà se un individuo un collettivo valla sapere comunque i seguaci di che non sembrano invece ignorare ma andiamo oltre fatta chiarezza sulla scelta lessicale torniamo ora invece al profilo di q su forcen allora tommaso tra i contenuti pubblicati da q e che hanno da subito riscosso maggior successo e contribuito a dare vita ad una narrazione criptica e ricca di messaggi in codice c'è una frase realmente pronunciata da donald trump il 6 ottobre 2017 dopo una cena con dei vertici militari il presidente statunitense aveva detto ai giornalisti presenti questa frase in italiano possiamo tradurre questa espressione come sapete cos'è questa è la quiete prima della tempesta frase che trampa tra l'altro detto facendo un vago gesto con la mano e senza aggiungere ulteriori dettagli nonostante le richieste dei cronisti presenti proprio questa frase è diventata una delle più identificative della narrazione di q con il passare dei giorni e di conseguenza anche dei messaggi pubblicati su forcen si è sempre poi più delineata un po la fisionomia della teoria del complotto di cui stiamo parlando negli stati uniti esisterebbe come anticipavamo prima un potere superiore a quello del presidente rappresentato da un cosiddetto deep state un'organizzazione composta da esponenti democratici e tra questi ci sarebbero barack obama e hillary clinton repubblicani moderati come il defunto john mccain e anche celebrità note come ad esempio tom hanks robert de niro marino abramovic e anche il filantropo george soros già al centro come ben sappiamo di teoria del complotto anche in molte altre occasioni secondo la narrazione di q sarebbe proprio questo deep state ad avere sempre esercitato all'interno e per gli stati uniti un vero e proprio potere indipendente dal presidente eletto la corsa di trump per la casa bianca sarebbe stata promossa ad alcuni militari di spicco per cercare di ostacolare questo deep state e arrestarne i componenti di conseguenza sarebbe stato elaborato un piano per assassinare donald trump quindi questa narrazione ha dimostrato che si tratta di una teoria particolarmente complessa che vede fazioni tra loro opposte ma soprattutto in donald trump un mezzo e un ostacolo cioè mezzo attraverso cui liberarsi da un più o meno scuro potere che controllerebbe gli stati uniti e ostacolo invece per il deep state e le personalità che si esprimono proprio tramite questo deep state con la propria forza e che vorrebbero invece gestire gli stati uniti tra l'altro come se non bastasse eh nello scenario già tratteggiato da q clinton e soci non sarebbero solo persone sia avide di potere e con una serie di vizi ma dei veri e propri criminali che durante quelle che sono delle loro presunte riunioni segrete si dedicherebbero tra l'altro alla pedofilia bevendo persino il sangue delle vittime come parte di un rituale satanico tra l'altro il collegamento con la pedofilia ha le sue radici in un'altra teoria del complotto giusto per complicare ancora di più la narrazione il cosiddetto pizzagate insomma uno scenario probabile no comunque sulla questione della pedofilia proprio di recente vedevo che anche in queste in questa campagna elettorale per le elezioni americane sono state taroccate una serie di immagini di biden in compagnia di bambini e minori sono state alterate per far sembrare che lui stesse baciando questi bambini e per appunto veicolare tutta una narrazione sul fatto che biden sarebbe un pedofilo e questa narrazione credo abbia anche come dire rotto gli argini di quello che era il cerchio dei dei seguaci di q anon e sia arrivata un pubblico americano piuttosto vasto ma insomma procediamo con invece l'approfondimento proprio dello specifico complotto di q anon e tu ne hai citato un altro collegato che mi interessa moltissimo già a partire dal nome il pizzagate che cos'è e soprattutto cosa c'entra allora per spiegarlo tommaso ascoltatore dobbiamo fare un ulteriore passo indietro cosa era successo tra ottobre novembre 2016 wikileaks ha pubblicato una serie di mail sottratte a john podesta persona che al tempo era capo della campagna elettorale di larry clinton a giorni trump sarebbe stato eletto presidente degli stati uniti e le mail sottratte sulle quali tra l'altro ci sono ancora oggi dei dubbi circa l'autenticità rivederebbero per lo più dei dettagli relative ad alcuni discorsi a pagamento tenuti da clinton per delle importanti aziende di wall street quindi fin qua possiamo anche dire più o meno niente di strano tra quelle mail ce n'è però una che ha sin da subito acceso un campanello d'allarme tra i complottisti si trattava di uno scambio avvenuto tra podesta e il proprietario di un ristorante pizzeria di washington chiamato comet ping pong tale james elefantis nello scambio email i due si accordavano per organizzare un evento elettorale di finanziamento all'interno di questo locale e il menù della serata trattandosi di un ristorante pizzeria sarebbe stato a base di pizza che negli stati uniti spesso comunemente tradotta con il termine cheese pizza ovvero pizza al formaggio pensate che è proprio per una pizza che è scoppiato questo caso cheese pizza infatti anche il termine usato nei forum internet per riferirsi alla pedopornografia per via delle iniziali comuni c e p tra cheese pizza e child pornography quindi secondo i teorici del pizzagate i vertici del partito democratico gestirebbero in realtà un traffico di minori molti provenienti da iti e rapiti tra l'altro pare direttamente dalla clinton foundation utilizzati poi per perpetrare abusi e come vittime di rituali satanici a metà novembre 2016 è comparso tra l'altro addirittura su reddit un presunto documento che sintetizzava le prove di questi crimini e in breve tempo la voce dell'esistenza di un pizzagate naturalmente falsa se qualcuno avesse ancora qualche dubbio a riguardo ha letteralmente invaso il web finendo per approdare anche su i principali mezzi di informazione secondo un sondaggio effettuato al tempo circa il 17 dicembre se non vado ricordando male dal settimanale britannico di economist e da you poll il 46 per cento delle lettori di donald trump credeva nel momento poi del voto che le email sottratte a podesta contenessero riferimenti alla pedofilia e al traffico di minori quindi che tutta questa storia fosse vera dunque tornando a noi il pizzagate rileggendo in qualche modo guardando al passato rileggendo questa serie di eventi possiamo considerare il pizzagate come la forma in qualche modo embrionale in parte di quei non tanto che le due teorie del complotto hanno finito per saldarsi e fondersi definitivamente nel 2020 quando il caso è tornato alla ribalta grazie appunto alla diffusione in rete e alla propaganda di q quindi cp come cheese pizza può essere child pornography poteva essere anche communist party partito comunista strano che non abbiano voluto infilarci dentro anche questo comunque come ci hai anticipato donald trump è uno dei protagonisti di questa teoria diciamo anzi che proprio il principale protagonista e il fatto che una personalità così in vista ricordiamoci che comunque insomma il presidente degli stati uniti è di fatto l'uomo più potente del pianeta una persona così in vista è così centrale in una teoria del complotto questo è un caso unico dobbiamo in qualche modo stupircene allora sicuramente da un lato la presenza di personaggi più o meno celebri in teoria del complotto a livello generale non è una novità basta infatti pensare a bill gates ad esempio a ruolo centrale che per antivaccinisti e complottisti anche a riferimento alla cove 19 ha spesso avuto e ancora ogni volta che si nomina la bile melinda gates foundation e tutte le varie attività associate come abbiamo poi già ricordate in passato si è parlato ad esempio di bill gates come creatore della coved come stratega nella gestione del futuro vaccino o più in generale comunque come una personalità che su questo come su altri temi in qualche modo non ce la racconta giusta quindi possiamo sicuramente dire che presenza di personalità conosciute al centro di teoria del complotto non è una novità ci sono però in questo caso almeno due aspetti da evidenziare pensando al rapporto tra quei non e donald trump il primo è il fatto è che è veramente difficile trovare una teoria del complotto in cui un potente riveste il ruolo del buono c'è solitamente le teorie del complotto tendono ad avere in personaggi pubblici noti dei nemici non degli alleati in questo caso invece trump è addirittura quasi visto come un salvatore come lo strumento che permetterebbe una svolta un cambiamento un uscita in qualche modo dalla presenza di questo deep state in secondo luogo è poi altro aspetto da notare l'atteggiamento di trump che in diverse occasioni non ha preso le distanze da questa teoria ma anzi è addirittura ha sembrato quasi che volesse assecondarla o quantomeno accettarla infatti l'entusiasmo dei seguaci di cune confronti del presidente trump è sempre stato tanto e lui in passato non ha mai esitato a ricambiarlo ad esempio il 24 agosto 2018 ha invitato alla casa bianca lionel lebron uno dei principali promotori della teoria compottista di quenon un anno più tardi giusto per tenere anche sempre un attimo sotto controllo gli eventi e i tempi cioè il primo agosto 2019 l'fbi è intervenuta definendo quenon una teoria del complotto in grado di attivare estremismi una possibile minaccia addirittura di terrorismo interno e solamente un anno prima il presidente degli stati uniti li aveva in qualche modo accolti alla casa bianca tra l'altro secondo gli analisti del centro di ricerca sull'informazione di orientamento democratico media matters dal 2017 oggi donald trump ha rituitato 114 account twitter che in un modo o nell'altro supportavano la teoria di quenon trump ha tra l'altro anche dichiarato di non sapere molto del movimento se non che lo apprezzano particolarmente sentiamolo infine come se non bastasse recentemente c'è il 19 agosto 2020 tra trump rispondendo a una reporter che gli aveva chiesto se lui stesso credesse alla teoria che lo vedeva appunto in lotta contro satanisti e pedofili trump ha dichiarato sarebbe forse una brutta cosa ma poi lo vogliamo dire che la risposta è sì sarebbe una brutta cosa cioè sarebbe una bella cosa che in realtà io fossi un giustiziere mascherato che di notte evita a una cricca di vampiri comunisti mangia bambini di portare a termine i loro piani criminosi no non lo sarebbe perché vorrebbe dire che esistono vampiri comunisti mangia bambini quindi vabbè parole assolutamente incommentabili ma andiamo oltre un fenomeno del genere che come abbiamo visto si basa su credenze che sono francamente assurde ha però conseguenze nel mondo reale cioè stiamo parlando di strani soggetti che vivono nello scantinato della mamma e che non escono mai e che tutto sommato vivono nel loro mondo di fantasia sono innocui oppure ci sono ripercussioni nella vita reale delle persone di questa appunto massa di assurdità che ci ha raccontato finora allora purtroppo le ripercussioni ci sono e sono anche parecchie cioè quei non come abbiamo visto è sicuramente un fenomeno nato e cresciuto su internet ma con che ha poi negli anni ha avuto delle conseguenze decisamente reali pensiamo ad esempio che ai tempi del pizzagate già ai tempi del pizzagate si sono registrati diversi atti di violenza verso il comet ping pong quindi il ristorante pizzeria al centro della vicenda che sono stati inizialmente delle recensioni negative online ma si addirittura ad arrivati ad un'irruzione armata nel locale e a minacce di morte verso i dipendenti il mondo reale a tutti gli effetti ha conosciuto quei non pubblicamente nell'aprile 2018 quando i seguaci della teoria sono per la prima volta scesi per le strade di washington organizzando una manifestazione passando per rassegno una serie di altri episodi sappiamo ad esempio che il 15 giugno 2018 la polizia del nevada ha arrestato un manifestante trentenne alla guida di un furgoncino blindato che conteneva un fucile automatico e una pistola e in alcune lettere scritte dopo la sua cattura l'uomo ha dichiarato di essere in missione addirittura per quei non e che con quell'arsenale voleva ottenere un report dell'fbi relativo ancora una volta ad alcune indagini che riguardavano hillary clinton il 31 luglio 2018 trump è stato accolto in florida da persone che indossavano magliette quei non e il profilo di q ha parlato dell'approdo della grande teoria e dei credenti nel mainstream andando ancora avanti nel tempo nel marzo del 2019 un uomo tale anthony comello assassinato frank cali referente del clan mafioso gambino dichiarerà di averlo fatto per fare un favore a trump perché sicuro che cali fosse parte del deep state e durante il processo comello ha sfoggiato il simbolo di q sulla sua mano ancora più recentemente nell'aprile del 2020 una donna jessica prim è stata arrestata new york armata di coltelli mentre riprendeva in diretta streaming il tentativo di uccidere il candidato democratico alla presidenza joe biden le sue pagine social erano piene di riferimenti a q e la sua prima dichiarazione è stata avete sentito dei bambini riferendosi ovviamente al pizzagate e alle varie teorie del complotto che come detto tu nei mesi scorsi e anche in tempi recenti in vista delle elezioni hanno spesso associato la figura di biden alla pedofilia d'altra parte però è anche corretto riconoscere che la politica statunitense non è rimasta in silenzio di fronte a questa situazione il 2 ottobre 2020 giorno in cui tra l'altro casualità degli eventi trump ha pubblicamente dichiarato di essere positivo al sars cov 2 la negli stati uniti è stato votato una risoluzione contro i sostenitori quei non c'è 371 rappresentanti hanno condannato il movimento e attraverso il documento che è stato firmato sono stati ufficialmente richiesti maggiori sforzi da parte delle piai e delle forze dell'ordine per contrastare quello che è sempre più un estremismo generato dalle teorie del complotto diffuse dal movimento e sono stati riportati una serie di esempi fatti anche da noi di violenza attività criminali operati dai sostenitori di cui nel frattempo tra l'altro altre informazioni cioè di pari passo con un approdo sempre più significativo nel mondo reale quei non anche poi definitivamente abbandonato 4chan piattaforma su cui abbiamo detto chi era nato è sparcato su twitter strumento molto cioè un social network molto usato negli stati uniti e anche su q drops un'applicazione sviluppata da q e appositamente dedicata alla diffusione delle sue briciole trovo che sarebbe poi anche interessante a questo punto una riflessione su come si mescolino l'estremismo di alcune idee in questo caso il complotto q anon ma si potrebbe applicare anche al fanatismo islamico al neonazismo come si mescolino appunto queste idee estremiste e il disagio mentale delle persone che poi decidono di agire appunto pensiamo ad alcuni dei soggetti che hai menzionato tu ad alcuni lupi solitari dell'isis no che avevano magari un passato di sesso droga e alcol quindi non proprio dei veri fedeli musulmani ma più che altro dei disagiati mentali o appunto attentatori sparatori neonazisti americani che di nuovo spesso hanno come dire storie di disagio psichico alle spalle non è questa la sede ma insomma speriamo di potercene occupare e di potervene parlare in futuro ma per concludere come anticipato in apertura andiamo a vedere come poi siano arrivati a parlare di q anon anche in italia che cosa sappiamo ad oggi sulla diffusione di questa teoria del complotto nel nostro paese e che cosa hai notato a livello di disinformazione sul tema ve ne siete occupati spesso per esempio con facta allora sicuramente sì le teorie di q anon sono negli ultimi mesi approdate anche in italia e insieme all'italia anche in gran parte dei paesi europei la denuncia è arrivata da newsguard cioè organizzazione che si occupa di monitorare la disinformazione online secondo cui il messaggio di q anon sarebbe attirando seguaci nel nostro paese sia attraverso siti locali di disinformazione sia grazie anche alla spinta di celebrità o addirittura politici che diffondono il messaggio di q quello che possiamo dire che si tratta almeno al momento e per fortuna di una nicchia oggi molto distretta eppure nonostante ciò come avete anche scritto voi di pagina la politica anche ad esempio il leader della lega matteo salvini e quindi personalità particolarmente in vista ha già incrociato la strada dei supporter di q anon ed è già successo in almeno due differenti occasioni il primo caso si è registrato a bari dove come testimonio un video un ragazzo ha chiesto a salvini ci credi in q e anche se non troppo convintamente salvini ha risposto di sì ascoltiamo l'audio grande matteo benvenuto a bari matteo ci credi in q dimmi di sì grande il secondo incontro invece in qualche modo tra quei non e matteo salvini è invece avuto luogo a napoli e si tratta di un video saluto che oggi online non è più disponibile di salvini a un gruppo di seguaci di q anon ai quali l'esponente leghista si era rivolto dicendo mai fermarsi mai avere paura sempre avanti insomma frasi discutibili e inserita in questo contesto anche abbastanza preoccupanti avendo visto quali sono le teorie su cui si basa q anon entrambi video quello che sappiamo dall'analisi sappiamo che entrambi video sono stati pubblicati online da achim volpato uno dei principali supporter italiani di q anon sostenitore tra l'altro anche della teoria secondo cui matteo salvini sarebbe attivamente coinvolto nel piano di trump per arrestare pedofili e satanisti a sostegno della sua teoria volpato ha citato diversi presunti indizi seminati da salvini e non confermati tra cui un cappello della guardia costiera che per un errore di cucitura trasformava la lettera o in una q simbolo di quenon salvini è l'unico esponente politico italiano direttamente citato nei breadcrumbs quindi gli indizi pubblicati da q e per gli utenti del gruppo telegram quenons italia il più attivo in italia con quasi 7.000 membri avrebbe già dimostrato la sua centralità nel piano grazie al suo attivismo nel caso di vibiano e con la denuncia del pericolo satanista pubblicata su facebook a febbraio 2019 dopo uno sketch di virginia raffaele a sanremo a parte salvini tra gli altri esponenti politici coinvolti più o meno direttamente nella teoria di q anon tra i più attivi è rientrata la parlamentare italiana ex movimento 5 stelle attivista novax sarà cugnial di cui abbiamo spesso parlato nei nostri podcast precedenti nel corso di un discusso discorso in parlamento il 14 maggio 2020 e verificato da voi di pagella politica cugnial ha citato numerose teorie rese popolari da q anon come ad esempio le accuse verso bill gates di aver avuto un ruolo nella creazione del virus e ha inoltre menzionato anche un passaggio il tip state all'italiana il virgolettato che abbiamo capito essere da quello che ci siamo detti finora una formula molto cara a q personalmente poi ricollegandomi nella tua seconda domanda e parlando a nome del lavoro fatto fino adesso da facta su facebook ci siamo occupati della verifica di diversi contenuti a tema q anon diffusi da nostri connazionali sui propri profili in tutti i casi si trattava di notizie false e che miravano a colpire in modo più o meno diretto a seconda della bufala esponenti pubblici americani e i presunti legami con il mondo della pedofilia i casi più significativi come abbiamo già detto prima hanno sicuramente visto protagonista biden e sia in quelli che erano i mesi di campagna elettorale sia tra la fine di ottobre e inizio di novembre in vista del voto ma hai parlato delle attività di facta sul contrasto alla disinformazione a tema q anon su facebook per quanto riguarda le altre piattaforme allora anche altre piattaforme stanno facendo qualcosa ad esempio il 21 luglio 2020 twitter ha reso noto di aver rimosso dalla piattaforma più di 7 mila account legati alla teoria complottista che secondo la società possono potenzialmente causare dei danni offline quindi si è resi conto del reale riscontro e rischio che la teoria di q anon può avere nella vita di tutti i giorni una strategia simile è stata intrapresa anche da youtube il 15 ottobre quando è stato pubblicato un comunicato in cui l'azienda ha dichiarato che q anon è una realtà pericolosa e che è necessario prendere dei provvedimenti precisiamo però che quella di youtube non sembra essere una scelta di chiusura totale cioè verrà sempre considerato il contesto in cui i video e quindi i contenuti vengono pubblicati sulla piattaforma il contenuto cioè riassumendo il contenuto del comunicato possiamo quindi dire che qualunque contenuto che punta in qualche modo a minacciare o molestare qualcuno attraverso le teorie del complotto legate a q anon sarà considerato da youtube una violazione delle politiche della piattaforma e quindi potrebbe poi arrivare anche alla rimozione parlando poi sempre di sociale in generale della presenza sul web di q anon ci tengo a sottolineare che negli stati uniti il fenomeno è spesso combattuto online facendo satira o ridicolizzando e portando spesso al limite teorie idee e proposte del movimento in un recente articolo del new york times è stato qualche modo messo in evidenza come questa strategia da una parte contribuisce sì a diminuire la credibilità di q anon nel momento in cui in qualche modo tocca coloro i quali già non ci credono al contrario però i seguaci si sentono in alcuni casi e personalmente penso possa cadere spesso umiliati presi in giro e questo provoca un fenomeno che rischia di essere controproducente cioè aumenta la sicurezza per i credenti di q anon delle proprie posizioni e nasce in qualche modo la voglia di rifarsi dimostrando quanto è vero quello in cui si crede e sfruttando quanto più possibile le occasioni pubbliche utili arriva dirlo il collega mike west debunker per metadebank.com ha fornito tre consigli utili e che mi sento di condividere anche con te nostri ascoltatori che qualsiasi in qualche modo comune cittadino può far propri per contribuire nel proprio picco nella propria quotidianità alla lotta contro la disinformazione legata a q anon il primo è che se si conosce o si ha tra i propri amici soprattutto sui social network un credente definiamolo così q anon il consiglio è quello di rimanere in contatto con questa persona cioè non escluderla non eliminare i propri contatti non bloccarne i post c'è il legame infatti utile per questa persona per concedere in qualche modo uno spiraglio verso la realtà continuare a rimanere connessa anche con persone che non la pensano allo stesso modo ma che magari possono offrirgli in qualche modo dei contenuti differenti e poi sicuramente importante condividere delle informazioni verificate che potrebbero essere interessanti per i credenti q anon se si vedono dei contenuti sui social che riportano informazioni scorrette è infatti in generale produttivo e anche in questo caso commentarli con invece degli articoli sullo stesso tema verificati e che spiegano perché quelle notizie o quei dati o quelle immagini non sono da considerarsi reali infine poi l'ultimo consiglio è quello di portare pazienza non è facile infatti questo discorso generale far cambiare idea a qualcuno quando si vanno in qualche modo a toccare credenze personali e diventa ancora più complicato se poi come in questo caso entrano gioco in gioco dei temi forti come la politica o i fini sociali e poi aspetti particolarmente delicati e sicuramente da condannare in qualsiasi caso come la pedofilia o la pedopornografia e grazie camilla pagella politica è un progetto di fact checking attivo dal 2012 e si occupa di verificare le dichiarazioni dei politici facta è il nostro progetto di debunking dedicato alla verifica di notizie potenzialmente false seguiteci sui nostri siti www.pagellapolitica.it e facta.news e sui nostri canali social twitter facebook e instagram per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di pagella politica su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast il podcast di pagella politica è stato scritto questa settimana da tommaso canetta camilla vagnozzi e simone fontana ed è prodotto da jessica mariana masucci io sono tommaso canetta e questo era il podcast di pagella politica